buongiorno ho appena acceso il camino attira che una meraviglia grazie all'aspiratore gemi ho risolto tutti i problemi prima faceva un po di fumo specialmente con il vento adesso eccolo qui come va su una meraviglia già impostato alla velocità di uno è sufficiente sufficiente proprio sì adesso andiamo sul tetto a vedere il comignolo eccolo qua tutto risolto la velocità gira molto di più però sul video non rende però il fumo si vede esce bene funziona che una meraviglia tutto qui grazie gemi